Nel 2018 le nuove imprese registrate alla Camera di Commercio del VCO sono state 694. In assoluto è il valore più basso dal 2000. In passato la media si attestava attorno alle 1000 nuove imprese ogni anno. Numeri che hanno fatto regredire anche il tasso di sviluppo, meno 0,30%. I dati sono contenuti nell'ultima indagine Nuove Imprese a cura di Infocamere. A fine dicembre le imprese registrate nel Berbano Cusiossola erano complessivamente 13.076. È stabile invece l'indicatore relativo alle cessazioni di attività a fronte del 731 del 2017. L'anno scorso hanno chiuso ai battenti 733 aziende. Il settore più in affanno risulta essere ancora una volta quello delle costruzioni, dove lo scorso anno il numero di imprese è diminuito di 40 unità. Segue l'industria manufatturiera, meno 35, infine il commercio con meno 30 imprese. Il comparto turistico è l'unico a chiudere con il segno più. Il settore turistico, alberghi e ristorazione ha fatto registrare la nascita di 13 nuove realtà imprenditoriali. Lo studio firmato dall'ente consortile di informatica delle Camere di Commercio pone l'accento anche sulle performance positive di altri settori, come noleggio, attività di ricerca, attività immobiliari, servizi alla persona e agricoltura. Il sistema produttivo provinciale risulta così composto. Commercio a 13.212 imprese, costruzioni 2.214, segue il comparto turistico con il 13% della fetta di mercato e chiude la manifattura con 1.491 imprese. Società di capitali è la forma giuridica che va per la maggiore nel VCO. Queste società, secondo Infocamere, sono le più dinamiche con un tasso di crescita pari al 2,12% che tradotto in cifre significa 2.413 unità. Di contro calano le società di persona, meno 1,28%, meno 0,62%, quelle individuali. Queste ultime rappresentano l'ossatura del tessuto imprenditoriale locale, se ne contano 7.569 e rappresentano il 58% del totale delle imprese del VCO. Sin qui a livello locale, a livello regionale, il saldo fra nuove aperture e cessazioni di attività è negativo di quasi 2.000 unità. In Piemonte a fine dicembre si contavano 432.583 unità, ovvero il 7% delle imprese nazionali. Grazie. 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 Grazie.